Prima giornata di apertura oggi del nuovo centro commerciale Blue Garden in Viale Rovereto a Riva del Garda. Grande affluenza di pubblico, specie dell'Alto Garda, curioso di vedere la struttura e i nuovi negozi di uno dei centri commerciali più grandi del Trentino. Abbiamo intervistato i gestori di tre dei nuovi negozi appena aperti. Una novità assoluta per Riva e anche per il Trentino è un negozio tutto dedicato al cioccolato. Sì, è un esperimento che stiamo facendo. Vogliamo fare provare ai Trentini l'irresistibile scioglievolezza di Lindor. Il nostro prodotto di punta è Lindor Latte e tutti i prodotti della linea Lindor. Potete anche trovare tanti altri prodotti, soprattutto quelli natalizi, visto che si avvicina il periodo, calendari dell'avvento soprattutto e tutta la linea Orsetto che è dedicata al Natale. Con te Scarpe Moda è un negozio che fa parte di una catena piemontese. Come mai la scelta di Riva per aprire il primo punto vendita in Trentino? Diciamo che non siamo solo del Piemonte ma ci siamo allargati anche in Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna. Quindi ci stiamo espandendo e abbiamo pensato bene di arrivare anche in Trentino. Diciamo che Lago della Bilancia è stato l'Expo Show che viene qui tutti gli anni dove vengono i nostri compratori, i nostri buyer e secondo il loro punto di vista questa poteva essere un'ottima zona per iniziare ad aprire anche in questa regione. Negozi di calzature più o meno grandi, comunque ce ne sono qua a Riva, comunque nella zona. Qual è il vostro punto di forza? Sicuramente riteniamo rispetto agli altri, rispetto ai nostri concorrenti, di avere intanto la possibilità di calzare tutti da 0 a 99 anni. E questo è sicuramente un punto di forza. L'ammettatura del negozio che dà la possibilità di una grossa scelta e sicuramente una qualità e una presentazione del prodotto leggermente superiore probabilmente a chi ci sta attorno. Penso questo sia il nostro punto di forza, un'immagine un po' diversa del vendere scarpe. Non il solito supermercato ma una qualità leggermente superiore. Sarnio Oro è un'altra delle realtà commerciali inedite appunto per il Trentino Alto Adige. Ci può descrivere la vostra realtà? Sì, noi siamo un'azienda italiana di gioielleria dal 1995, abbiamo circa 100 punti vendita in tutta Italia e questo è il nostro primo negozio in Trentino e speriamo di continuare un'espansione in questa bellissima regione. E qual è il vostro target di clienti? Noi abbiamo un portafoglio molto ampio, prendiamo sia dalle cose un po' più economiche, quindi più adatte a tutti quanti, fino a cose un po' più costose e importanti. E c'è un vostro prodotto esclusivo? Sì, abbiamo una linea di gioielleria nostra fatta da noi che si chiama Sognami, che la consiglio a tutti.